WIP nasce fondamentalmente dal mio socio Marco Benedetti che ha un bambino che si chiama Nicolò che ha dei problemi di allergia e siccome Marco è un buon conoscitore di tutte le fibre ha scoperto queste fibre come il Mater B derivate dall'amido del mais che hanno il grosso vantaggio di non dare allergia, nessun tipo di allergia. Il Mater B noi lo utilizziamo nel packaging esterno e così anche il packaging diventa biodegradabile ma soprattutto all'interno dei prodotti quello che è il film barriera esterno sia degli assorbenti che degli pannolini è fatto in Mater B. Noi lavoriamo un po' in tutta Europa, la produzione dei pannolini è in provincia di Arezzo nelle foreste casentinesi, intanto è molto legata al verde e alla natura e quindi si sposa perfettamente con il nostro prodotto in più in quella zona lì hanno chiuso delle fabbriche di pannolini convenzionali e per cui c'era la mano d'opera specializzata che poteva lavorare per noi noi abbiamo recuperato una fabbrica che faceva tutt'altro, molto inquinante l'abbiamo bonificata e adesso lì facciamo il nostro pannolino.